Il 23 novembre 2017 a Milano nella prestigiosa cornice dell'hotel Straff, OGS ha presentato il suo nuovo cliente, un operatore del campo del design di prima grandezza nel settore del contract con una forte specializzazione nell'arredamento dei ristoranti. Oleg Volosovsky, ucraino, ha presentato alcuni dei suoi progetti descrivendoli minuziosamente. La tendenza loft e déco si sposano armoniosamente nel lavoro di questo architette, abituato a operare sul campo con i più svariati materiali, mettendo, come si suol dire, le mani in pasta nella realizzazione dei suoi progetti, che coinvolgono artigiani e operatori del settore, prevalentemente italiani, nel segno della qualità e della quasi maniacale attenzione al dettaglio.